In questo video andiamo a commentare due video che sono usciti sul canale di Dino Tinelli, veramente video vergognosi, che dimostrano per l'ennesima volta, manco ce ne fosse ancora bisogno, che il terrapiatismo è soltanto un tentativo di ingannare persone magari distratte o che vogliono credere a tutti i costi nella terra piatta. Il primo video sarebbe questo, lo scrive la NASA, il ghiaccio marino antartico circonda la Terra e quindi per dire, no, la NASA avrebbe ammesso che praticamente la Terra è come dicono i terrapiatisti col ghiaccio antartico che circonda il mondo, ma andiamo a vedere se le cose stanno veramente così. Lo scrive la NASA, il ghiaccio marino antartico circonda la Terra ed è costantemente esposto a forti venti ed onde. Il ghiaccio marino antartico, d'altra parte, non è stato considerato un indicatore del cambiamento climatico, mentre il ghiaccio marino artico si trova principalmente nel mezzo di una Terra bloccata dall'oceano. Nel mezzo di una Terra bloccata dall'oceano, che è più sensibile alla luce solare e all'aria calda, il ghiaccio marino antartico circonda la Terra ed è costantemente esposto a forti venti ed onde. Il ghiaccio marino antartico circonda la Terra ed è costantemente esposto a forti venti ed onde. Quindi mentre Dino Tinelli ci vede che la NASA avrebbe ammesso che, come dicono i terrapiatisti, con il ghiaccio dell'antartico che circonda tutto il mondo, in realtà qui dice che il ghiaccio antartico, d'altra parte, non è stato considerato un indicatore del cambiamento climatico, mentre il ghiaccio artico, cioè del polo nord, principalmente si trova nel mezzo di un oceano circondato da terre emerse, che è molto più sensibile alla luce solare e al riscaldamento. Il ghiaccio marino antartico circonda la Terra emersa ed è costantemente esposto ad alti venti e onde. Perché land, in inglese, vuol dire terra nel senso di terra emersa, non terra nel senso di mondo. E su questa ambiguità, che in italiano terra vuol dire sia pianeta Terra, che è terra come quella che abbiamo sotto i piedi, che di Notinelli gioca e vi prende letteralmente per il culo. Quindi come fate ad andare ancora dietro una persona così, un imbroglione così? E infatti vedete che l'antartico, e qui c'è terra emersa, e c'è ghiaccio di acqua marina che circonda la Terra emersa. E che è esattamente quello che viene detto lì. Vedete che molto semplicemente a differenza invece l'artico e il polo nord è quasi tutto circondato da terre emerse. C'è la Groenlandia, qui c'è la Siberia, qui c'è l'Alaska, da quest'altra parte c'è la Norvegia, c'è l'Europa, quindi vedete che tranne pochissimi sbocchi è completamente circondato dalla Terra emersa. Mentre invece i terrapiettari nella loro mente malata ci hanno voluto vedere che la NASA ammette che la Terra è fatta col ghiaccio antartico che circonda la Terra, no? Questo dimostra per l'ennesima volta che il terrapiettismo si basa solo sul tentativo di ingannare chi ascolta. Non sapete quanti terradementi diranno nei loro commenti e io perché non lo sai che la NASA ha ammesso che la Terra è piatta, l'ha detto Dino Tinelli. Certo, per essere terrapiettista uno è un imbroglione, cioè che cerca di fregare il prossimo, di plagiare il prossimo, ma non ci crede nemmeno lui, oppure se ci crede veramente è un demente totale. In questo secondo filmato invece, altrettanto demenziale, si dice di poter smentire il fatto che la Terra è sferica, perché questo oggetto sferico posto sulla superficie terrestre, che dovrebbe essere un radar forse, ha una illuminazione diversa dalla Luna, ripresa contemporaneamente. Santo Dio, come si fa a credere a queste cose! Naturalmente, questo oggetto sferico è orientato in modo molto diverso dalla Luna, perché questo è orientato in un punto della superficie sferica terrestre, con la sua longitudine e latitudine, e quindi va in una certa direzione, punta in una certa direzione. La Luna, che si trova distantissima a 380.000 km, si troverà in tutta altra direzione completamente diversa, e quindi è ovvio che sono illuminate diversamente, proprio perché la Terra è sferica, e la palla, che vediamo in questo video, e la Luna hanno delle inclinazioni diverse rispetto alla luce del Sole. Del resto, quando è notte, noi vediamo anche la Luna piena. Quando c'è la Luna piena, la Luna si trova dalla parte opposta rispetto alla faccia in cui è giorno sulla Terra, ma la Luna è anche molto lontana, e quindi gli arriva direttamente la luce del Sole, e quindi per me è notte, ma vedo la faccia illuminata completamente della Luna, anche se mi trovo nella metà della Terra, per cui è notte. Ma per me è notte, quindi non ho nessuna illuminazione, nessun oggetto opposto sulla superficie terrestre, mentre la Luna prende totalmente l'illuminazione del Sole, e quindi vediamo la Luna piena di notte. Ma è possibile che c'è gente che crede in... ancora le puttanate che li racconta Dino Tinelli e gli altri terrapiattari del web? Ok, questo breve video si chiude qui. Se vi è piaciuto mettete like, se non vi è piaciuto mettete dislike, ma se vi piace il canale di Ignoraison, non dimenticate di iscrivervi. Grazie a tutti.